Nei punti di ristoro previsti dall'accordo, gli automobilisti potranno trovare delle vere e proprie oasi di prodotti alimentari che arrivano dalle aziende agricole di quel territorio. A disposizione nelle oasi ci saranno oltre 80 tipi di prodotti, dai vini all'olio extravergine di oliva, dalla pasta di farro a quella all'uovo, dai biscotti alle conserve dolci e salate, oltre a salse, sottoli, gelatine e piante aromatiche. Saranno tutti prodotti della rete FAI, firmati dagli agricoltori italiani, per garantire sia la qualità che la trasparenza della filiera e i viaggiatori che si fermeranno in quelle aree di servizio. La prima fase prevede il coinvolgimento di nove aree fra Emilia, Romagna e Lazio, ma complessivamente le oasi saranno 150. La collaborazione di Chef Express e Coldiretti si inserisce in un'ottica di innovazione. Il gruppo punta a portare le oasi agricole in tutte le aree gestite. Secondo un'analisi di Coldiretti, saranno circa 30 milioni gli italiani adulti che andranno in vacanza questa estate, con una spesa media di circa 500 euro a persona. Un terzo del budget delle vacanze è destinato all'alimentazione e all'acquisto di souvenir enogastronomici. I vacanzieri troveranno eccellenze italiane certificate di origine agricola italiana.